Musica In studio Giada Giacquinta Ancora buonasera, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale Torniamo a parlare in apertura del caso dell'omicidio di Elena Masca Lucia perché sono 11 le coltellate inferte alla bimba di 5 anni ed è quanto emerge dalle anticipazioni del medico legale che ha eseguito ieri pomeriggio l'autopsia al Cannizzaro di Catania Si tratta di colpi compatibili con un coltello da cucina ma l'arma non è stata ancora trovata è un solo il corpo letale e pare che la bambina non sia morta immediatamente i dettagli in questo servizio La GIP del Tribunale di Catania, Daniela Monaco, Crea ha sciolto la riserva Martina Patti resta in carcere a Piazza Lanza a Catania una decisione che ci si aspettava considerando le greve accuse e le emissioni non poteva essere diversamente è stato convalidato il fermo con la misura cautolare restrittiva per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere durante l'interrogatorio di garanzia la 23enne aveva aggiunto solo qualche dettaglio non ha parlato di movente, non ha risolto tutti i punti oscuri tanti in non ricordo ma sostanzialmente ha confermato la sua versione sull'omicidio ha fatto tutto sola portando la bambina nel campo dove è stata trovata morta avvolta in 5 sacchine di plastica con il corpo seminudo l'avvocato Gabriele Celesti chiederà una perizia psichiatrica della sua assistita per valutare le condizioni psichiche probabilmente con l'incidente provatorio sarà adesso l'autopsia a chiarire la causa e l'ora della morte di Elena del Pozzo ciò che è emerso dalle prime risultanze e che alla piccola sono state inferte oltre 11 coltellate di cui una letale perché ha reciso i fasi arteriosi dell'arteria su clavia ma la morte non è stata immediata l'arma del delitto è un coltello da cucina l'esame otoptico si è concluso ieri sera intorno alle 21 quasi 5 ore in cui sono stati eseguiti anche esami tossicologici oltre al prelievo dei tessuti il medico legale Giuseppe Ragazzi ha chiesto 60 giorni per depositare la relazione in procura e torniamo invece adesso a parlare dell'omicidio di Brunilda la 37enne albanese accoltellata per strada davanti casa a Vittoria perché il GIP del Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta avanzata dal PM per l'incidente provatorio per il figlio minore di Brunilda che era in casa nel momento in cui la madre è stata uccisa per il GIP l'esame rilevante è superfluo motivo per cui è stata rigettata la richiesta non ci sarà alcuna anticipazione della prova nei confronti del figlio tredicenne di Brunilda l'albanese di 37 anni uccisa accoltellata il 25 maggio scorso davanti alla sua abitazione a Vittoria e non ci sarà alcuna ricognizione del detenuto il 28enne Vittoria esereo confesso richiuso nel carcere di Cavadonna a Siracusa il GIP del Tribunale di Ragusa e Vanno Infarinato ha rigettato la richiesta di incidente probatorio del PM Francesco Riccio secondo il quale sarebbe stato determinante cristallizzare le informazioni del minore adesso stante il fatto che il giovane era in casa al momento dell'omicidio perché secondo la procura durante il dibattimento potrebbe profilarsi il rischio che essendo trascorso del tempo il minore non ricordi tutto a fronte allo shock subito ma soprattutto ha motivato il PM c'è la possibilità che la famiglia della donna si trasferisca nel paese di origine in Albania altra richiesta del PM era quella di far identificare al minore quello che per lui è l'assassino della madre su una serie di soggetti messi a confronto per il giudice per le indagini preliminari la richiesta appare irrilevante e superflua stante il fatto che il minore non ha dato indicazioni sull'assassino della madre ed è già stato ascoltato a sommare informazioni subito dopo il delitto e non vi è secondo il giudice alcun rischio che la famiglia si trasferisca in Albania perché a Vittoria hanno costruito legami umani e professionali oltre ad avere nominato illegale Santino Garufi l'avvocato della difesa Franco Vinci Guerra farà richiesta di incidente probatorio per fare valutare le condizioni psichiche dell'assistito lunedì molto probabilmente ci sarà un incontro nel carcere a Retuseo dove già la famiglia ha avuto un colloquio nei giorni scorsi col figlio detenuto e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per il ritrovamento di un cadavere in evidente stato di decomposizione in mare stamattina a un miglio a largo della costa di Marina di Ragusa è stato un diportista intorno alle 9 di stamattina a segnalare la presenza in mare di un corpo ed ha allertato subito la capitaneria di porto di Pozzallo intervenuta per il recupero con una motovedetta partita da Pozzallo e che ha consegnato la salma ai militari dell'arma al porto di Marina di Ragusa accertamenti in corso tra cui l'ispezione cardaverica verosimilmente dicono i militari potrebbe trattarsi di un migrante così come fanno sapere e andiamo avanti ma cambiamo argomento parliamo di coronavirus perché facciamo il punto con i dati aggiornati relativamente ai casi positivi in Sicilia sono 168 i nuovi positivi e 8 le vittime in Sicilia nelle ultime 24 ore per quanto riguarda il Covid-19 così come viene divulgato dal bollettino del Ministero della Salute secondo la partiera della raccolta dei dati dovuta a un problema tecnico nel bollettino di ieri che saranno in seguito aggiornati dunque risultano al momento 168 nuovi casi che si sono registrati a fronte di 2697 tamponi processati ieri erano 2960 il tasso di positività scende al 6,2% ieri era al 17,2 gli attuali positivi sono 47.806 con un decremento di 1.306 casi i guariti sono 1.466 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 11.114 sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 587 2 in più rispetto a ieri e in terapie intensive i ricoveri sono 22 1 in più rispetto al giorno precedente per quanto riguarda le singole province a Palermo 53 i casi a Catania 38 a Messina 12 a Siracusa 12 a Trapani 24 a Ragusa 6 a Caltani 7 a 5 a Grigento 15 A Palermo 2 persone sono state arrestate rinvenuto un casolare di campagna adibito a Serra da Cannabis le persone arrestate sono un 65enne e un trentenne accusati di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti furto aggravato di energia elettrica detenzione abusiva di armi e ricettazione Un casolare di campagna adibito a Serra Indurre è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Alto Fonte in provincia di Palermo che hanno arrestato due persone un 65enne e un trentenne con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente furto aggravato di energia elettrica detenzione abusiva di armi e ricettazione i controlli hanno riguardato il comune di Santa Cristina Gela dove insiste la piantagione da oltre 310 esemplari in parte coltivati in vaso e in parte in terra a vigilare il tutto ci pensava il trentenne di origine straniera accusato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti furto aggravato di energia elettrica detenzione abusiva di armi ricettazione nonché resistenza pubblico ufficiale adesso si trova in carcere per il 65enne proprietario del casolare del terreno stesso provvedimento emesso dal GIP una volta cresciute stirpate essiccate triturate e vendute al dettaglio le piante avrebbero potuto fruttare diverse migliaia di euro la crescita delle piante era garantita da lampade alogene e ventilatori alimentati grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica scoperto con l'ausilio di personale Enel e due incensurati sono stati arrestati dalla sezione antidroga della squadra mobile della questura di Ragusa perché rinvenuti con una sostanza del tipo GBL conosciuta come la droga dello stupro due arresti in due diverse operazioni per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo GBL conosciuto meglio come droga dello stupro i poliziotti della sezione antidroga della questura di Ragusa hanno proceduto al sequestro di alcuni flaconi sigillati con etichetta industriale contenenti complessivamente 1,6 litri di una sostanza liquida trasparente che da accertamenti effettuati dal dipartimento di prevenzione laboratorio di sanità pubbliche dal personale appartenente al gabinetto regionale della polizia scientifica di Catania risultava essere GBL che avrebbe potuto essere convertita in 3.000 dosi il GBL è uno stupefacente particolarmente pericoloso e insidioso in quanto si tratta di una sostanza inibitrice della volontà che si presenta in forma liquida in colore e in sapore tanto che qualsiasi bevanda può essere adulterata senza destare il minimo sospetto sono sufficienti piccole quantità per provocare nell'assuntore un tempo di azione massimo di 10 minuti effetti ipnotici sedativi dissociativi e soprattutto renderlo sessualmente accondiscendente proprio per queste sue caratteristiche viene definita droga dello stupro in quanto utilizzata anche lo scopo di allentare i freni inibitori della vittima con l'intenzione spesso di commettere una violenza sessuale inoltre dal momento stesso in cui viene metabolizzata il GBL provoca un'amnesia talmente intensa che la vittima non ricorda assolutamente nulla di quanto vissuto se non un senso di smarrimento vertigini e confusione è una sostanza che può determinare alterazioni importanti delle funzioni del cervello sino alla perdita completa dei sensi o addirittura la morte cambiamo argomento parliamo di rifiuti in Sicilia è caos in tutta l'isola il Movimento 5 Stelle e il PD hanno tenuto un punto stampa chiedendo l'istituzione di un fondo regionale per aiutare gli enti locali a sostenere le spese di trasporto dei rifiuti senza invece gravare sui siciliani il disastro hanno detto affonda le radici nella cronaca carenza degli impianti e nella bocciatura del piano rifiuti regionale la Tari schizza alle stelle sentiamo la Sicilia è immersa nel caos rifiuti PD e Movimento 5 Stelle durante il punto stampa promosso nella sede dell'Assemblea regionale siciliana a Catania il centro urbano più penalizzato con rifiuti in ogni dove ha chiesto l'istituzione di un fondo regionale per contribuire alle spese dei comuni per il trasporto dei rifiuti fuori regione Catania e tutti i comuni siciliani in generale stanno pagando ha denunciato l'opposizione lo scotto di una gestione fallimentare degli impianti con la bocciatura del piano rifiuti regionali e la tare che schizza le stelle a causa del trasporto fuori regione dei rifiuti e dell'assenza di discariche quasi tutti gli impianti in Sicilia hanno chiuso i battenti solo due attualmente sono disponibili le discariche di contrata di impazzo in provincia di Caltanissette e quella di proprietà della società Catanzaro in provincia di Agrigento non è ammissibile che i siciliani debbano pagare l'incapacità del governo musume ecco perché nella manovra finanziaria che dovremo approvare a luglio la variazione di bilancio chiederemo l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni che devono spedire fuori dalla regione i loro rifiuti la situazione drammatica PD e Movimento 5 Stelle sono pronte a chiedere il commissariamento della regione sul versante rifiuti oggi abbiamo denunciato le nefandezze del governo regionale la situazione dei rifiuti è gravissima le misure adottate dal governo musume non sono all'altezza della situazione servono impianti e in questi anni abbiamo denunciato i ritardi del governo non solo nella previsione ma anche nella concreta realizzazione di impianti servono centinaia di impianti invece il governo musume ne realizza alcuni che si possono contare sull'edita di una mano ogni estate ha detto Iosee Marano arriva puntualmente all'emergenza rifiuti e questo nonostante i proclami di musume che aveva annunciato di porre fine al sistema delle discariche ovviamente ha aggiunto la parlamentare Giannina Ciancio per parametrare gli aiuti si dovrà tenere conto anche dell'efficienza dei comuni sul fronte della differenziata non si possono mettere comuni virtuosi e non sullo stesso piano e il torrente forcile in territorio di Catania necessita di interventi di pulizia in occasione di un sopralluogo si è notato come soprattutto in caso di pioggia si potrebbero creare problemi a causa della fosta vegetazione presente per il fatto anche che in alcuni punti è presente della spazzatura arrivare prima che sia troppo tardi una regola che dovrebbe valere per tanti settori soprattutto se questi riguardano la vita pubblica o i cittadini una premessa per parlare del torrente forcile a Catania un torrente assai importante ma che spesso è oggetto di incuria il torrente infatti è interessato da una folta vegetazione in questi casi è cosa giusta intervenire periodicamente per evitare che proprio le piante possano bloccare il flusso dell'acqua o in caso di pioggia improvvisa non permettere proprio all'acqua di defluire abbiamo fatto un non sopralluogo e la manutenzione non ci è sembrata proprio recente le piante infatti sono rigogliose e occupano parte del letto del torrente senza tralasciare che in qualche punto si trova anche spazzatura a causa dell'incuria della gente che scambia il torrente per una grande pattumiera a cielo aperto dall'amministrazione comunale ci informano che gli interventi di pulizia presso il torrente forcile sono stati già calendarizzati noi continueremo a vigilare così come chiedono le stesse persone che vicino al torrente abitano e che sperano che ci sia una manutenzione costante nell'isola di Vulcano i valori di emissioni nocive secondo gli esperti di ARPA e INGV continuano a destare una modesta preoccupazione si temono infatti eruzioni improvvise ed è stata convocata infatti da musumeci in qualità di commissario delegato una riunione del comitato per il coordinamento delle misure per la tutela e la salute dell'incolumità pubblica soprattutto in vista della stagione turistica occorre mantenere alta la guardia ma senza creare inutili alarmismi così musumeci in merito al rischio di eruzioni improvvise su Vulcano al termine di una riunione del comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica convocata in qualità di commissario delegato musumeci ha spiegato come si intende mettere in campo le necessarie misure di prevenzione e protezione della popolazione soprattutto in un periodo in cui l'isola delle Oli è frequentata anche da molti turisti a destare particolare preoccupazione sono i valori di emissioni nocive valutati da ARPA e INGV l'allarme è stato lanciato da Roma dalla commissione grandi rischi per l'ipotesi di una reazione freatica che per suonatura è un fenomeno imprevedibile e rapidissimo non stiamo valutando alcuna possibilità di rischio spiega Musumeci mettendo in campo ciò che è necessario per la tutela della salute il nostro obiettivo è rendere compatibile un'adeguata prevenzione con la fruizione dell'isola nelle aree autorizzate da parte di residenti e vacanzieri il prossimo 23 giugno intanto scadrà l'ordinanza interdittiva del sindaco di Lipari sulle aree del porto e della baia di Velevante e la nuova ordinanza come ha annunciato il sindaco proregerà le limitazioni e terrà conto di tutte le novità discusse dal comitato il sindaco di Vulcano ha manifestato l'esigenza di attuare una maggiore protezione attiva del territorio il governatore siciliano ha annunciato di aver contattato il ministero dell'interno e il prefetto di Messina per segnalare l'assoluta carenza di personale indiviso e la necessità di creare un presidio fisso con almeno tre unità preposte alla vigilanza dal Viminale però al momento dice Musumeci non è arrivata alcuna risposta ufficiale ma insisterò promette e sono diversi i disservizi che si registrano lungo la strada provinciale 701 a ridosso della zona di Bicocca a Catania da ferri abbandonati quindi pericolosi anche la segnaletica mancante la città metropolitana interpellata garantisce interventi aspettando che reti ferroviari italiane costruiranno un nuovo ponte un cartello a terra che non sappiamo cosa voglia indicare ma soprattutto dei ferri lungo questo ponte siamo nella strada provinciale 701 dove si stanno facendo dei lavori questi ferri che potrebbero essere utili perché a questi ferri va attaccata la rete protettiva in realtà sono quasi sull'occillo della strada e diventa pericoloso per le macchine per le moto soprattutto la sera perché questa zona è scarsamente illuminata a cadere a farsi male non ci vuole nulla e soprattutto una macchina con la ruota può urtare uno di questi ferri il cantiere in parte è segnalato non del tutto e ci chiediamo come bisogna intervenire per evitare che qualcuno si faccia male le immagini lo mostrano è davvero una situazione difficile anche perché su questo tratto di strada c'è un restringimento così come segnalato da alcuni cartelloni si è pericolosa sì e sì lei passa spesso da qui? sempre tutte le mattine e non è segnalato bene? non è segnalato bene esatto sì è pericolosa io la faccio tutte le notti è tantissima pericolosa perché la notte tra l'altro non è illuminata no completamente no e qui ci sono stati tantissimi morti e tantissimi incidenti pericolosi purtroppo penso che richieste ce ne sono stati tantissimi dall'operatore che lavorano che lavorano a massa purtroppo siamo a Catania è inutile che parliamo non so cosa dire ci sono dei feri in mezzo alla strada che diventano pericolosi c'è stato ultimamente un incidente un articolato che è andato sotto il val dove c'è il fiume e hanno fatto una stringiura di strada e abbiamo visto che due articolate non possono transitare interpellata la città metropolitana di Catania ci viene sottolineato come gli uffici siano a conoscenza delle criticità della strada provinciale in particolare nella zona delle ponte per questo motivo la città metropolitana ha assicurato che interventi di sicurezza come il ripristino della segnaletica e la rimozione di intralci nella sede stradale sono in programma ma ci comunica la città metropolitana la risoluzione definitiva volta a un deciso miglioramento della circolazione avverrà a breve quando RFI completerà la nuova linea partente da Bicocca che comprenderà la costruzione di un nuovo ponte più ampio e moderno capace di assorbire un maggiore traffico veicolare e in piena sicurezza i lavori sono in corso e la tempistica per la conclusione non è lunga conclude la città metropolitana al via ieri la settimana dell'ambiente giunta alla terza edizione è promossa dal libero consorzio comunale di Ragusa per la tutela dell'ambiente della biodiversità secondo le recenti normative eventi fino al 25 giugno tutelare l'ambiente e la biodiversità secondo i recenti principi costituzionali è questo l'obiettivo che si pone la settimana dell'ambiente promossa dal libero consorzio comunale di Ragusa è giunta alla sua terza edizione con un ricco programma di eventi fino al 25 giugno tra gli appuntamenti passeggiate ecologiche visite guidate dibattiti e incontri ma anche la pulizia di litorali di alcune aree e dei fondali da sempre il libero consorzio promuove iniziative di sostenibilità ambientale questo progetto fa parte di un progetto più ampio che comprende anche se non dovuta alla pulizia del territorio continueremo su questa strada impiegheremo tutte le nostre forze non solo fisiche ma anche economiche oltre a venti le associazioni e gli enti che collaborano per successo di questa iniziativa abbiamo avuto il supporto di tutte le associazioni ambientaliste che hanno avuto un ruolo fondamentale non solo nella preparazione di questa settimana ma anche nella realizzazione di alcuni step che saranno fatti sul nostro territorio e per i quali stiamo intervenendo in maniera consistente per mettere in evidenza la cultura dell'ambiente e la cultura del territorio ad aprire gli eventi di questa edizione un incontro presso la sala conferenze Gianni Mole con la presentazione del progetto sull'istituzione dell'area marina protetta fondali della focia del fiume Erminio e la salvaguardia di questo tratto di costa permetterà di tutelare sia la parte costiera e terrestre ma anche i fondali dove è presente una ben strutturata prateria posidone oceanica posidone oceanica che è una pianta superiore anche se vive nel mare quindi non è un'alga che permette anche di tutelare la costa dall'erosione costiera il momento inaugurale della manifestazione ha visto poi il seminario sulla bioeconomia circolare e sulle carte del verde urbano a cura della delegazione siciliana dell'ordine nazionale dei biologi dell'associazione analista ambientale del WWF Sicilia di Lega Ambiente un momento di confronto tra tutti gli attori coinvolti nella tutela ambientale a portare i saluti il vice direttore generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa che promuove iniziative ambientali nel piano industriale 2022 2024 prevede interventi in questo senso in ambito ISG e in ambito della sostenibilità abbiamo una divisione sulla sostenibilità l'anno scorso è partita la prima comunità energetica in Italia in ambito agricolo è partita da Cate l'ha finanziata la banca insieme con Enel e ci fermiamo adesso per la pubblicità tra poco ben trovati in studio si racconta nel suo ultimo libro che ha presentato a Ragusa D'Aria Bignardi un libro dal titolo Libri che mi hanno rovinato la vita si apre ai lettori nel suo ultimo libro l'ottavo libro D'Aria Bignardi partendo proprio dal rapporto che si instaura tra lettore e libro scrittore e lettore una relazione intima che si sviluppa tra le pagine di libri che mi hanno rovinato la vita presentato a Ragusa nell'ambito di a tutto volume la scrittrice giornalista e conduttrice televisiva racconta la sua vita dalle bugie delle scienziali agli amori fatali fino alle ricorrenti malinconie i libri dice mi hanno da un lato rovinato la vita ma dall'altro mi hanno salvata perché ci sono incontri nella nostra vita che sono dolorosi così come i libri ma necessari per conoscere noi stessi e diventare chi siamo parlo molto di me in maniera anche molto intima e lo faccio attraverso i libri della mia vita anche quelli con i quali avevo dei conti aperti perché magari sono stati un po' degli incontri dolorosi però poi mettendoli in fila uno dietro l'altro ho capito anche delle cose di me secondo me tutti noi abbiamo nella nostra vita degli incontri con i libri con i film con la musica che se li sentiamo così profondamente è perché ci dicono qualcosa di noi stessi in una società accelerata la lettura è un'occasione per rallentare ma anche un'occasione di incontro di divertimento e di conoscenza la Bignardi parla anche del suo rapporto con la televisione un mondo al quale si è approcciata come giornalista una professione che ama ma si definisce più un'autrice che ama stare poco al centro dell'attenzione che preferisce ascoltare inoltre sottolinea la responsabilità di chi fa televisione nei confronti della tv che pur ho fatto a lungo ho fatto un passo indietro negli ultimi anni in generale penso che quella di chi va in tv è una grande responsabilità e che bisognerebbe fare le cose con molta cura e con molta attenzione e senza cercare mai il facile ascolto però per farlo bisogna fare un lavoro molto approfondito che non è facile ma che si può fare e adesso un servizio del nostro ufficio commerciale un nuovo dialogo tra creatività e funzionalità che apre le porte ad una nuova visione del design per un'esperienza qualitativamente pregiata e altamente personalizzata e questo è il leitmotiv del nuovo concept store che vede protagoniste due storiche realtà imprenditoriali di Catania Castellana e Abitare accomunate da professionalità intuizione ricerca costante e nuovi indirizzi un hub inedito un vero e proprio ufficio di stile uno spazio elegante e innovativo realizzato a misura dei desideri di ogni tipo di cliente a pochi passi dalla splendida scogliera di Catania dentro la città per trovare la soluzione ideale alle proprie richieste ciò che contraddistingue tutti i nostri progetti è l'amore che trasmettiamo verso questo lavoro ha dichiarato Sheryl Russo Fonder di Abitare e qui c'è la possibilità e la facilità di avere a portata di mano tutti i materiali esattamente si può costruire il mood board cioè il proprio stile scegliendo colori tessuti carte da parati ante dell'armadio della cucina il pavimento il bagno la tenda l'illuminazione per cui in un unico spazio ovviamente ci sono persone che riescono a gestire tutto ciò si può con semplicità con facilità avere un po' tutto gli ambienti di casa proposti nello store sono tutti funzionali al vivere quotidiano la costante sperimentazione di Castellana e Abitare ha permesso di armonizzare le collezioni Bath & Home sulla base della forte identità dei due mondi suggellando l'incontro tra design hot culture e materiali pregiati la nostra aspirazione è quella di preservare e se è possibile rilanciare il territorio in cui operiamo e viviamo è invece sottolineato Fabrizio Marchese CEO di Castellana oggi più che mai è sempre più importante poter offrire dei prodotti esclusivi dei prodotti che non si trovano da altre parti e poi molto molto servizio la cosa che ci distingue dagli altri sicuramente è il servizio cioè poter dare mettere a disposizione degli architetti ed un servizio a 360 gradi che riesca a seguire il cliente dall'inizio alla fine una customer experience inedita che si sviluppa su una superficie di 1500 metri quadri in un blend di libera espressività progettuale eleganza comfort e funzionalità il risultato è un concept store originale ed esclusivo nella capacità di coniugare componenti d'arredo e servizi di progettazione creazioni e competenze al fine di realizzare spazi fedeli alle diverse esigente di funzionalità ed estetica nella preparazione che hanno i clienti lavori meglio lavori meglio perché vengono e sanno quello che vogliono non vengono più con la rivista di un tempo e quindi secondo me il professionista deve essere molto più preparato ecco deve essere molto più predisposto a quello che il mondo del design in genere nel nostro caso specifico ci offre è tutto per questa edizione grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti